Ciao Giulio, come stai? Abbiamo appena appreso che hai fatto comunque presenza in questa sfida. Ti chiedo al volo un commento rapidissimo sulla partita. Aspetta, aspetta che non si mette, ti ho perso un attimo. Sì. Per dimmi la domanda. Al volo Giulio, complimenti naturalmente per il fatto delle convocazioni di Mallet. Grazie, grazie. Sei bene, insomma, come noi ti stiamo seguendo da vicino. Ti volevo chiedere due cose. La prima, un commento rapidissimo su questa sfida appena giocata a Parma. E la seconda, se appunto speri di indossare questa fatidica maglia numero 9 in questi sei nazioni, insomma. Guarda, oggi purtroppo ci contavamo molto. Una serie di episodi ci hanno penalizzato, però ci siamo impegnati molto in campo. La squadra ha dato sicuramente tutto al 100%. Quindi non li rimproverono nulla. Ci spiace tantissimo di dare neanche un punto perché ci serviva davvero tanto per la classifica. Per il resto, invece, le nazioni sono contento. Spero di poter dimostrare ancora una volta al mister, se mi darò la possibilità in campo, di poter guadagnare magari una maglia da regolare. Ecco, tu che comunque... Pensiamo prima ad entrare nel gruppo dei 24 e poi vediamo. Tu che l'hai visto e che naturalmente sei nel giro, l'hai visto ben disposto nei tuoi confronti, comunque ti ha parlato, ti ha fatto capire che rientri comunque in questo giro. L'appoggio di tutti i allenatori c'è comunque, sono sempre disponibili a tutti, a consigli per migliorare e poi per far bene nella squadra. Quindi direi che la tua sera è quella giusta. Adesso aspettiamo con ansia di andare in Inghilterra e fare la nostra partita. L'ultima Giulio perché ti sentiamo che è ancora il fiatore, ti facciamo andare a fare la doccia. Che sei nazioni sarà per la nostra nazionale? Sicuramente durissima come tutte sei nazioni. Noi pensiamo partita dopo partita a dare il massimo. Chiaramente puntiamo a fare il nostro meglio. In casa avremo sicuramente una spinta in più, quindi speriamo sempre nel solito pubblico del famiglio. Con chi ve l'ha giocato, Irlanda o Scozia? Io direi tutte quante, sono una vale l'altra. A livello è sempre lo stesso in interazioni, penso. Quindi così, tutte e tutte quante, dai. Giulio, in bocca al lupo. Grazie di tutti a voi, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao Giulio.